In 1916, non si sa per quali dire, consegnate al governo greco e il governo greco le ha incamerate nel museo di Zantino e Cristiano Pialegno e sono state esposte. Ora noi stiamo cercando, la diversità in verità, diciamo inutilmente, di organizzare una mostra di queste icone messinesi a Messina appunto. Ci fa piacere che la collega abbia detto che appunto la prima sala del futuro museo di Messina è andata delicata, perché molti uomini erano nelle mie preghe, Messina e Cuno lo salvate dalle rovine del terremoto e questo risulta da tutti gli studi fatti anche da Gontrò e di Lemini o da altri. Quindi questo, perché è la Madonna dell'Azio, ma la Madonna dell'Azio è la Madonna della Cava di Baccellona, il santuario della Madonna della Cava, sapete che a Baccellona c'è una situazione che si chiama Cava? C'era proprio il santuario della Gala, che è la Gala Stomofusa, tenuto in quel caso dai padri pasigliani. E non direvi altre cose, ecco, scusatemi questo intervento e di nuovo un saluto a mia in bambini a tutti gli studenti.